ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo insomma video oggi voglio provare a finire corridore di velocità e oggi sicuramente ce la faremo che abbiamo inizio anzi iscrivetevi al canale attivate la campanellina e lasciate un bellissimo like se volete che io arrivi fino alla fine se non volete non fate niente che vi devo dire non posso giudicare se non lo volete non lo fate nel senso ragazzi allora se voi vi iscrivete allora ce la farò ad arrivare fino alla fine anzi ce la farò e come ad arrivare alla fine se lasciate like può darsi invece se attivate la campanellina non si sa invece se fate tutto allora arriverò sana e salva lì alla fine senza mai cadere c'è soltanto una volta in questo caso sono morta una volta ora non morirò più se fate tutto vediamo ah ma non l'hai ancora fatto corri a farlo ecco perché allora sono caduta perché ecco non l'avete ancora fatto quando non cadrò più vuol dire che voi l'avete fatto vediamo provo a fare dei trick ok se ragazzi vi siete iscritti eh finalmente mamma mia arriva doveva arrivare il momento ma c'è ancora qualcuno che non si è iscritto chissà chi è secondo me sarei tu quindi corri fa l'ora che sta finendo il tempo forse ora l'avrei fatto ma perché non lo fai corri a farlo dai è facile farlo basta schiacciare il pulsante scrivi rosso vedi tu non ti sei iscritto per questo non hai fatto niente non sono arrivata sana e salva vabbè la prossima volta quindi ora vabbè vabbè non sono l'ultima cosa vero scusate ragazzi no no vabbè Più dieci monete. Ok. Ok. Ok, no, no. Pieno. Finalmente ti sei iscritto. O ti sei iscritta. What are you? Sono Sonic. Sonic. Super Mega Saiyan. Sonic. Batman. Spider-Man. Dovevo lanciare la ragnatella. Uffa. Lì proviamoci. Sonic. Sonic. Super Saiyan. No. Ciao. Finalmente mi vedete bene. Forse. Si ragazzi. Sonic. Sonic. Super Saiyan. Batman. Batman. Quindi vi ho detto. Capitan America. Batman. Spider-Man. Ragniatella. Batman. Perché Batman non fa certe volte? Ma. Tiro. Sonic. Sonic. Ehm. Super Saiyan. 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 Spider-Man. 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 No. No. Sonic. 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 Super Saiyan. Super Saiyan. Super Saiyan. Super Saiyan. Spider-Man. 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 Batman. Batman. non funziona mai forse se mi sto dritta funzionerà ragazzi posso raccontarvi una barzellettina che vi farà ridere? forse non lo so allora c'era un albero che era secco e aveva due arance che stavano per cadere perché dondolavano tutti e due poi è caduta un'arancia e l'altra è rimasta appesa e gli ha detto aiutami aiutami e l'arancia che è rimasta appesa gli ha detto no non ti aiuterò aranciati cioè aranciati arancia ma a me fa ridere per oggi video fisso è qui ci vediamo domani con un prossimo video e mi raccomando iscrivetevi e lasciate un bellissimo like e attivate la campanellina bravi attivate la campanellina ciao 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 Grazie a tutti.